Nell'anno della pandemia il 2020 in cui la rete fatta di social network e siti internet è stata fondamentale per mantenere i contatti che ancora oggi sono proibiti tra le persone aumentano anche i reati legati al web. Lo dicono i dati della polizia postale nel bilancio dell'attività nel 2020 i delitti salgono di circa il 110 per cento. Partiamo dai reati più aberranti quelli relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online e dell'adescamento dei minori online. 69 gli arresti e 1.192 le denunce tra questi anche due mamme e un papà che abusavano sistematicamente delle proprie figlie. 98.000 le truffe online rilevate mentre sul fronte del falso trading online sono stati trattati 358 casi con oltre 20 milioni di euro di danno. Particolare attenzione al contrasto del cosiddetto revenge porn 126 casi trattati 59 le denunce e nell'era in cui tutti ma davvero tutti hanno scoperto i social network con commenti like e la perseveranza di tanti leoni da tastiera sono state 906 le persone denunciate per 2.234 diffamazioni online. È ben ricordare che la diffamazione sui social network è ormai equiparata penalmente a quella che avviene in presenza. Ci sono stati anche tanti giornalisti minacciati sul web numerose le segnalazioni ricevute per il cosiddetto hate speech una vera e propria espressione di odio verso una categoria di persone. In un anno insomma dove lo sport nazionale è sembrato purtroppo essere quello di denigrare e diffondere le fake news e le teorie complottiste il sito della polizia postale è stato un importante punto di riferimento con oltre 65 milioni di accessi un incremento del 127 per cento rispetto al 2019.